Endless love anticipazioni Nei prossimi capitoli, una serie di eventi agitano le vite dei protagonisti. Kemal scopre il coinvolgimento amoroso tra sua sorella e Emir e, accecato dalla rabbia, affronta quest'ultimo. Il confronto sfocia in violenza e Kemal, preso dal furore, spara a Emir. Afflitto dai sensi di colpa, Kemal chiama la polizia e si arrende, venendo immediatamente arrestato. Nel frattempo, Emir sopravvive miracolosamente a un delicato intervento chirurgico. Mentre Kemal affronta la vita dietro le sbarre, lottando non solo per la sua sopravvivenza, ma anche contro le minacce di Emir e Galip, il vero amore di Kemal, Nian, scopre di essere incinta. Consapevole dei pericoli che Emir rappresenta per il loro bambino, Nian è costretta a fare una scelta difficile. La situazione si complica ulteriormente quando Nian è costretta a testimoniare contro Kemal in tribunale, portando alla sua condanna. Determinata a proteggere il suo bambino, Nian trova la forza di fuggire dal paese e rifugiarsi a Londra, dove dà alla luce sua figlia Denise. Questo nuovo sviluppo influenzerà inevitabilmente il destino dei personaggi, lasciando intravedere quale sarà il loro prossimo passo in questa intricata saga. Terminano così queste anticipazioni. Cosa ne pensi? Scrivilo nei commenti. E se sei curiosa di sapere cosa succederà, scrivi nei commenti «Voglio il continuo» e presto uscirà un nuovo video. Alla prossima! Grazie a tutti!